edison gentleman catarina balivo al forum monzani di modena buonasera buonasera a tutti buonasera ma beppe c'è un sacco di gente grazie io ho detto ma verrà qualcuno la pioggia la neve il tempo così usciranno di casa grazie grazie a tutti i parenti di cotta favi grazie davvero grazie allora qua c'è scritto caterina balivo quindi mi devo sedere qui non ho capito perché beppe tu hai il profilo migliore qui sai che gloria guida venerdì mi ha chiesto di invertire la seduta qual è il tuo profilo per te la stessa cosa tanto tanto cosa no tanto io sono molto preoccupata di presentare il libro con cotta favi molto preoccupata quindi se c'è qualcuno che vuole sostituirlo grazie siete di grande aiuto grazie allora siccome è la mia città inizio subito tirandomela un po quindi veramente sono parenti tuoi capito mi ero gasata nel senso che nessuno ci può credere ma è la verità ma non c'è neanche un libro mio qui adesso arriva portateci vado da lei guarda neanche un libro cioè niente tu come ti chiami la balivo è così è nostra ferma linda allora immagino che tu l'abbia anche pagato perché qui non figurati no non regalano libri te lo ridò va bene linda tempo a mezz'ora non lo rovinare cotta favi allora mi hai già interrotto però stai ferma dopo ti muovi la balivo è così portate pazienza allora la la cosa divertente della nostra storia è che la balivo mi ha corteggiato per anni per anni l'ho corteggiato questo è una lavatrice che non funziona cotta favi lo dico perché non rispondeva nessuno ci crede però lei mi ha corteggiata per anni finché finalmente ha ceduto mi ha seduto ceduto perché continua sono passati anni e lei continuava a rompermi le scatole con sta storia c'ho il libro c'ho il libro c'ho il libro a me me lo dico in tutti c'ho il libro e poi insomma dico anche la balivo no dopo totti mi tocca in sorte anche la balivo invece e invece è stata veramente una delle più amabili e sorprendenti sorprese appunto scusate sorprendenti sorprese della mia carriera di editor quindi io sono l'editor di questo libro quindi sono sfegatatamente di parte lo dichiaro è un libro veramente molto figo molto divertente e non solo molto divertente ma anche molto intelligente Caterina qualcuno di voi sicuramente la la segue in televisione lei è diventata rapidamente la regina del pomeriggio di Rai 1 dopo che qualche gufo aveva dato addirittura questo programma in treno ad essere chiuso si dice non manco il panettone mangeranno non solo l'abbiamo mangiato conviene da me l'ho anche regalato a 200 persone per dire ecco così i gufi possono essere messi a tacere molto rapidamente Caterina dal nulla ha creato un programma nuovo in una fascia oraria difficilissima su Rai 1 e il programma sta andando benissimo stai facendo un paio di milioni no sono molto contenta sì vieni da me un paio di milioni insomma il pomeriggio di Rai 1 chi magari ha la fortuna di stare a casa o di poter fermarsi un attimo in quell'orario dalle 14 alle 15 e 40 però era una scommessa poter tornare dove mi ero fermata otto anni prima con festa italiana su Rai 1 io ho delle io ogni volta nella mia vita da quando sono piccola mi fisso con delle cose no con degli obiettivi il mio obiettivo era pubblicare solo con Beppe Cottafavi non mi interessava pubblicare con altri voi direte perché non lo neanche io ma ero sicura che fosse mio uomo giusto sei veramente stronzo grazie mi ho detto pubblico con lui questo romanzo con nessuno nel frattempo però sono passati otto anni io ho anche pubblicato altri libri quindi non è che non avevo l'occasione di farlo ma volevo lui perché sapevo che lui avrebbe non solo creduto nel romanzo qualora avessi accettato e un po' di tempo ce l'ha fatta ce l'ha messa ma soprattutto avrebbe reso la protagonista proprio come volevo io io e lui abbiamo litigato una sola volta e potremmo farlo anche adesso sul titolo allora ora questo titolo no gli uomini sono come lavatrice voi vi aspettate un catalogo di uomini in base alla lavatrice non è così è un romanzo a tutti gli effetti no lo diciamo come che l'avresti intitolato io volevo mettere Lara lui mi ha detto Caterina tu non sei Omero e quindi ho detto a quel punto sto zitta ho detto va bene allora mettiamo il tuo titolo e tantomeno Flaubert insomma allora però 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 attenzione Lara e non ho detto questo a caso così dico adesso facciamo finta anche di fare una presentazione sen Lara secondo me qui sono disposto a combattere per questa enunciazione che sto per fare è veramente una discendente di Emma Bovary è una discendente di Emma Bovary sì perché Emma Bovary è la prima eroina emancipata della letteratura mondiale ed occidentale e devo dire che la Lara della Balivo non non si deve vergognare affatto di essere una nipotina contemporanea di Emma Bovary ora posso anche piangere già pianto per Amosic che va via da Napoli e guarda che persino Flaubert se avesse avuto un buon editor avrebbe migliorato Madame Bovary come tu hai migliorato gli uomini sono come le lavatrici allora anche io sono stato sgridato anche dal marito di Caterina che è un mio amico perché neanche a lui è piaciuto questo titolo insomma avevo tutta la famiglia contro forse Cora tua figlia perché non sa leggere non sa leggere era l'unica dalla mia parte però io invece sono contento e fiero anche del titolo allora oltre che per essere centrifugati come ha commentato oggi una tua collega che si chiama Cinzia Leone che sta per pubblicare un bellissimo libro anche lei da Mondadori e quando io ho postato questa inverosimile pagina che ti ha fatto la Gazzetta di Modena grazie la Gazzetta di Modena perché insomma un paginone anche un rianchiamo in prima grazie perché non sempre quando ti ospitano poi ci credono così tanto quindi grazie Cinzia Leone ha giustamente postato Centrifughiamoli allora non lo dico io anche se vi voglio parlare anche della copertina questa copertina appunto questa centrifuga di capelli che evoca appunto non solo la centrifuga ma evoca il giusto femminile rappresentato da questo libro però spiega comunque a loro perché gli uomini sono come le lavatrici nonostante il titolo non ti piace questo sia un romanzo molto divertente perché Lara la protagonista questa cenerentola romantica che arriva dalla provincia di Napoli e aveva un sogno di come tutte le ragazzine di avere un lavoro spero soprattutto come tutte le ragazzine di avere un lavoro di diventare indipendenti di poter avere un grande amore di farcela nella vita da sole arriva a Roma e ha vari incontri lei lavora come ufficio stampa e il suo carattere tenace la porterà a diventare sempre una donna principale all'interno di questa agenzia a un certo punto conosce un ragazzo, un ragazzo perfetto della borghesia romana, pariolino e alla fine la conquista, ho voluto descrivere in maniera dettagliata sia l'abbigliamento sia il contesto per farli vivere quella parte di Roma e poi quando andrà anche quella parte di Milano e alla fine cede a questo Luca Bencivenga e va a vivere con lui va a vivere con lui ma lui proprio la martellava andiamo a vivere insieme, andiamo a vivere insieme ma Lara non era convinta eppure tutte sarebbero andate subito a vivere con Luca c'era qualcosa che non le tornava, è una ragazza molto istintiva qualcosa non le tornava, comunque alla fine va a vivere con Luca ci sono vari racconti di questo Luca come un po' distante dalla vita di provincia che faceva Lara quasi come se alcune volte se ne vergognasse e alla fine Lara scopre il tradimento di Luca e questa casa bellissima lei cosa fa? si vendica e vedrete come, non ve lo dico, qualche uomo potrebbe anche andarsene e già vedo un signore lì che ha alzato gli occhi a cielo e a un certo punto cosa fa? prende i suoi vestiti e la sua lavatrice e quindi la lavatrice alla fine diventa la copertina di Linus di Lara e la porterà sempre via con sé e proprio all'inizio del libro c'è scritto Yama Bell questa casa non ci merita abbiamo tanti altri bucati da fare insieme la lavatrice è la sua copertina di Linus cioè lei guarda la lavatrice e ci piange perché ricorda quest'amore che non c'è più stato a un certo punto lei si chiede anche ma piango per un amore finito o piango perché Luca in realtà mi ha tradita e mi sento offesa mi sento umiliata Lara con le sue amiche Cecilia e Lara vivono anche delle situazioni molto divertenti un po' la sex in the city anche se forse può essere oggi rispetto a Gossip Girl un lontano ricordo anche se amo molto più la parte di sex in the city che Gossip Girl e molte volte più city che sex qualche volta è anche molto sex come quando la rincontra Andrea e io alla fine del libro ho raccontato anche come ho rintracciato Cottafavi dopo tanto tempo ho messo anche un'email per avere delle recensioni per capire cosa pensa il lettore di questo libro stranamente tutti bene stranamente perché di solito si divide invece no, chi lo legge alla fine piace hai un algoritmo che ti censura la verità no dai non è così un'email però la cosa che mi ha colpito è che tutti quando leggono dell'incontro di Lara e di questo Andrea pensano che sia quello quello giusto e c'è un colpo di scena importante che fa capire come in realtà quel sapore dei panini imburrati che Lara ricerca che ricorda un po' la sua famiglia le sue tradizioni alla fine non è dato dal lusso che in quel momento questa Andrea le può dare perché insomma diciamoci la verità ora va bene due cuore e una capanna però pure due cuore e una terza e cinque stelle potrebbe andar bene allora soffermiamoci un momento sul panino imburrato vi racconto un'altra cosa che mi aveva molto colpito di Caterina in uno di questi nostri incontri clandestini in cui lei cercava di convincermi a che io diventassi il suo editor per, siccome lei è la balivo per cercare di stupirmi si inventò come effetto speciale una sera e disse vieni a prendere non so dove mi pare erano le sette di sera a Milano e mi ha portato in una palestra dove c'erano delle dove tu non so se se tu la frequentassi o meno aspetta ma non adesso proprio ai tempi quando mi hai scaricato quando mi hai scaricato io so dove ti ho portato mi hai portato in una palestra dove facevano la lap dance no, vedi la pole dance allora nel 2010 ora c'è tutti tutti parlano di pole dance pole dance pole dance ok nel 2010 io Caterina e la mia amica Michela che poi ritrovate anche nel libro non so se qualcuno di voi già l'ha letto il libro io e Michela facevamo pole dance pole dance non è la lap dance che è una cosa erotica da fare nei club prescambisti la pole dance un po' troppo sono stata no, va bene no, ma siamo a Modena eh, siamo a Modena cioè che abbiamo paura di dire le cose eh, mamma mia eh, no eh, qua abbiamo un bacchettone che hai capito che mi segue sui social che mi fa così Antonio tu sei diversa come me loro sono di Modena eh allora prendete la pole dance come funziona ci sono questi pali poi chi ha seguito detto fatto per anni sa che ho portato questo tutorial anche in tv ed è diventato anche un uno sport olimpico quindi c'è un palo allora la pole dance c'è un palo tu ti attacchi al palo e fai delle coreografie con questo palo eh l'allenamento prima di salire sul palo è con i tacchi a spillo e fai ginnastica non è per niente erotico assolutamente ed è uno sport pazzesco perché si basa tutto grazie ai muscoli delle braccia e del torace e fa un fisico pazzesco il problema è questo io andavo a fare pole dance con questa mia amica Michela che è alta un metro e ottanta e pesa trenta chili ma io e lei non riuscivamo a salire su questo palo vedevamo delle signore taglia superiore alla nostra salire e fare delle coreografie pazzesche e lì io e Michela ci siamo guardate e abbiamo detto vedi come tutto è relativo quindi quella pole dance che noi abbiamo fatto per varie lezioni dove io ti ho detto vieni per farti vedere quanto stavo fuori con una campana ma in realtà senza strategia l'ho fatto perché evidentemente tu potevi a quell'ora e io non potevo perdermi la lezione certo però infatti quella volta sono ancora scappato perché ho detto questa mi porta a vedere questa qui col palo sì ma dopo dieci anni tutti lo fanno pole dance e questa è la cosa bella tu devi capire quanto ero avanti invece che raccontarmi l'idea del suo libro mi porta a vedere questa col palo poi nel frattempo avevi fatto un improbabile libro dove parlavi con gli angeli quel libro che è andato benissimo allora io ho raccontato qui sta sempre a modere non ci crediamo negli angeli erano morti comunque allora tutti quanti abbiamo un angelo un libro che io ho scritto ed è la biografia quindi diverso dal romanzo che è proprio un altro mondo è la biografia di un uomo vivente che si chiama Craig Warwick conosciuto in trasmissione quando faceva festa italiana e ho raccontato la sua storia perché ci vuoi credere o non ci vuoi credere ma è la storia di un uomo di un ragazzo che arriva da Londra e si trasferisce per amore a Sciacca una storia incredibile soprattutto racconti la storia di un uomo che vive che lo vedi e che tu leggi e dici voglio conoscere lo puoi fare e che parla con gli angeli in realtà parla con i morti c'è niente di più niente di meno di quel role di torinese cioè detto tramite ancora più fuori per un modenese parlare con i morti però però è andato benissimo abbiamo venduto anche in Germania questo lo vorrei vendere in Inghilterra vedi che puoi fare io infatti lì me ne sono mi sono contrariato perché questo improbabile libro è andato benissimo e allora lì ho rivalutato il potenziale di Caterina Balivo quale autrice e finalmente dopo otto anni l'ho ascoltata e ho fatto bene ad ascoltarlo ma credo di aver fatto bene anche averti fatto aspettare perché nel frattempo questo è un vero libro è una prova assolutamente complicata e non banale è stata per Caterina perché si è messa nelle umili vesti di un'autrice che deve costruire un'architettura complessa come quella di un romanzo e devo dire che la Balivo è talmente tosta talmente brava talmente simpatica lo devo purtroppo ammettere è talmente intelligente anche talmente furba che anche se io continuavo a guardarla un po' con sufficienza dicendo chissà che cosa mi presenta questo la Balivo addirittura non so se è la Hold ma si è fatto un corso di scrittura creativa per prepararsi alla bisogna non mi sono mai sentita così ignorante durante quel corso di scrittura perché ero incinta di Guidalberto nel 2012 avevo 32 anni sì esatto stavo con tutti i ragazzi più piccoli di me che avevano letto qualsiasi libro cioè io sì ho letto ma ho letto tutti i classici anche perché cominciando a studiare e a lavorare contemporaneamente l'università per me era un po' più pesante quindi mi sono ritrovata con tutti questi ragazzi che in realtà leggevano e basta che va benissimo nella vita però quando tu hai tanto tempo facevo anche la pole dance quindi avevi un sacco di roba da fare in quel momento ho detto la mia autostima è andata proprio a zero finché poi invece l'insegnante mi ha detto io ti ricordo Caterina che tu lavori da quando ha 17 anni qua ci sono i genitori che pagano loro per mandarli a lavorare no no ma questo per dirvi che questo libro è uscito in questa formula anche se l'autrice disdenta il titolo in una collana di narrativa perché se lo meritava tutti gli effetti e come vedete c'è questa centrifuga assurda di capelli rosa ma non c'è la faccia della Balivo insomma non è un libro mentre negli altri tuoi libri c'è sempre la faccia della Balivo in copertina comunque guarda che se la mettevamo magari si mettiamo pure un po' di più questo per dirvi che questo è adesso appunto qualche momento pure non scherziamo è un vero romanzo molto ben scritto ed è un romanzo che io avrei pubblicato a prescindere dalla notorietà del nome dell'autrice e questo vuol dire non c'è la faccia della Balivo in copertina tante volte corriamo dietro a persone celebri come lei che hanno una potenza di fuoco sui social la Balivo un milione e mezzo mi pare di seguaci su Instagram un milione su Instagram un milione su Instagram quasi un altro milione su Facebook eh vabbè insomma quindi spesso non aumentiamo pare brutto spesso noi editori cerchiamo l'incrocio con queste che non sono appunto più persone ma diventano personaggi perché ovviamente la loro potenza di fuoco ci aiuta a vendere i loro libri questo non è il caso questo è un vero libro che compete nei campionati dei veri libri tant'è che vende meno dei libri non ho nessuna certo poi tu me l'hai fatto uscire insieme a tutti i mosti sacri mi ho detto dobbiamo uscire a maggio che non esce nessuno ci sono solo io e invece no un campionato in serie A dove sono dall'altra parte al compratelo Caterina deve guadagnare una giusta credibilità che si merita tutto in quanto scrittrice di narrativa questo libro è far e con cui così concludo questa cosa perché in tanti mi accusano addirittura di averlo scritto io questo libro magari Beppe magari Beppe non ci mettevo da un sacco di roba Caterina questo libro non solo è farina del sacco di Caterina ma questo sacco è durato otto anni cioè il prelievo della farina di questo sacco perché appunto negli otto anni in cui lei ha cercato di convincerne a realizzarlo lei ha continuato a scriverlo a riscriverlo come fanno giustamente i veri scrittori e soprattutto i veri esordienti perché questo nel campo della narrativa è un esordio e il fatto che nessuno ci abbia messo le mani se non per il lavoro con la squadra degli editor che lavorano con me come qualsiasi altro autore da Camilleri ma non fare nomi da Camilleri no 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 ma da Camilleri in giù viene trattato questo è il normale lavoro editoriale con cui un autore si confronta con gli editor della casa editrice ma il oddio ho perso il filo no è talmente vero che questo libro l'hai scritto tu che se questo libro fosse stato costruito a tavolino nessuno sarebbe stato così folle da costruire una storia come quella che lei vi ha accennato e soprattutto nessuno avrebbe avuto la sua competenza e per questo è un libro che io non solo giudico ben fatto e ben scritto ma anche importante nell'affermare un modello di femminilità assolutamente poco praticato assolutamente anticonformista assolutamente fuori dalle convenzioni finalmente la donna secondo me esce come come deve essere cioè che la donna non ha cioè io ero stanca di leggere di questi libri dove la donna succedevano delle cose per caso perché erano goffe perché incontravano per caso uno in metropolitana basta cioè io non ne potevo sì applaudite perché veramente io non ne potevo più di questa menata le donne nascono per rompere le palle a tutti diciamolo nascono perché hanno voglia di conquistarsi le cose che si prefiggono vogliono un uomo o una donna in base ai gusti sessuali ovviamente vogliono condividere delle cose belle con l'altra persona se vengono tradite ci sono delle donne che magari fanno pippa perché avranno i loro motivi ci sono donne che si vendicano e poi ci sono sono comunque delle donne che hanno voglia in maniera determinata di conquistare la vita che hanno quindi questo fatto che la donna capita una cosa così per caso tra uomini e lavoro sinceramente questo non ci fa merito però è una cosa solo prettamente italiana perché la donna italiana si giustifica sempre se riesce ad ottenere qualcosa e anche un retaggio culturale poi arrivo dalla provincia di Napoli quindi figura di Caserta anzi è diventata poi provincia di Caserta diventa un po' la donna deve fare i figli sta a casa e mamma mia lavoro hai visto il bambino c'è un sacco di problemi perché c'è la mamma che lavora c'è ancora questa cosa e io su questo fatto proprio non mi do pace non mi do pace perché secondo me se non cambiamo prima noi quando raccontiamo la donna non lo potrà fare mai nessuno e chi lo può fare meglio se non una donna quindi anche le scrittrici secondo me Beppe che tu maneggi tanto devi far capire che fare la sfigata di turno non sempre può essere apprezzata perché magari la sfigata può fare più simpatia quella determinata fa antipatia ma credetemi che sono molto di più le donne determinate che ho incontrato nel mio corso di vita che quelle sfigate cioè io di sfigate ne ho incontrate pochissime e perché secondo me erano sfigate perché lo volevano loro cioè è questa la verità e quindi le mie amiche sono peggio di Lara Michela Cecilia e le mie amiche sono le uniche che non hanno pensato che qualcun altro me l'abbia scritto perché sanno tutte le cose che ho vissuto e sperano che non ci sia un seguito perché dicono ce la siamo scansata in questo libro nel prossimo mi sa che qualcosa di nostro ci va a finire ecco quindi avete sentito che applauso meritato a Caterina in questo mi associo se lo merita tutto avete sentito quale sia la consapevolezza non solo della balivo ma questa consapevolezza l'ha trasmessa a tal punto alla protagonista di questo suo romanzo che non è un autofiction anche se Lara assomiglia molto sì all'ottanta per cento a Caterina ormai faccio outing e le tue amiche le mie amiche sono identiche anche nel nome assomigliano molto alle tue amiche anche nell'onomastica però la stessa consapevolezza e radicalità di questa consapevolezza l'ha anche Lara e per questo dicevo nessuno editor si sarebbe inventato un libro del genere perché questa idea è così forte potente nella testa di Caterina che la cosa in cui noi abbiamo cercato di frenarla era proprio che insomma questo femminile era talmente prorompente e questa tua idea che non è solo femminile ma in questo caso è del tuo essere umano che tu vuoi vincere sempre rendeva un po' insopportabile ecco questa Lara nel senso che alle donne non quelle a cui si no ma purtroppo è vero è vero perché una protagonista che ha sempre voglia di vincere è normale che piace di meno rispetto ad una che è appunto la cenerentola dove veramente per caso incontra il principe azzurro è molto più facile credere che ti possa succedere una cosa come cenerentola che lottare soffrire piangere e prendere i porti in faccia come Lara è ovvio cioè se tu dici cosa vuoi fare vuoi essere una cenerentola cioè che per caso ti passa il principe azzurro o vuoi essere come Lara devi lottare devi cambiare città devi prendere le fregature devi piangere ti devi licenziare ti devi rinventare però forse alla fine trovi è normale che uno dice ah no voglio fare cenerentola tutta la vita ho capito ma quella l'hanno scritto cioè la verità non è proprio quella non solo l'hanno scritto ma qui il tema vero è un modello culturale purtroppo in cui è molto più facile identificarsi il modello perdente invece nel modello vincente che proponi tu detto questo prima mentre parlavi hai detto una cosa che vorrei approfondissi quando hai detto le donne che vengono tradite reagiscono chi in un modo chi nell'altro c'è anche c'è anche un modo in cui reagisce la tua protagonista che credo ti pertenga molto guarda guarda dentro il telefonino del compagno pensavo dicessi quella cosa dei vestiti no sì io io ve lo dico da sempre guardo il telefono prima dei miei fidanzati di mio marito io avverto allora Lara lo dice guarda che io guardo sul tuo telefonino cioè io leggo il tuo telefonino quindi Lara lo faceva e ha trovato più di una volta io anche lo facevo e lo faccio ma io adesso ma il mio marito lo sa io dico amore guarda ma che sta facendo la doccia guarda il tuo telefonino ormai lo sa quindi o cancella tuo marito che ho la fortuna che sia un mio amico è un santo quindi tu puoi guardare tranquillamente non è un santo perché no non è un santo non è un santo per niente io ma anche il mio telefono può vederlo cioè non è che io guardo il telefonino di mio marito e lui non può vedere il mio io voglio controllarlo scusate e Lara che in questo secondo me assomiglia tanto qui l'autofiction diventa veramente autobiografia più che autofiction quando becca guardando nel telefonino qualcosa che non che viola il sistema di attese di quello che pensava di trovere e trovare come reagisce va nell'armadio e taglia tutti i vestiti del in due proprio tutti a pezzettini tutti i vestiti di questo marito compagno no compagno che è stato ecco nel libro non ci sono bambini non ci sono matrimoni ci sono flirt e storie non ci sono neanche animali per carità basta gli animali mamma mia gli animali cioè io conosco personaggi che prendono animali per fare click mi piace su instagram ti prego basta questa cosa degli animali di questo ti sono stato come editor molto grato di avervi liberato dai bambini e dagli animali però se si vende di più un animale ce lo metto sopra nel prossimo metteremo un gattino allora prima accennavi a una cosa che volevo dire prima poi non ce l'ho fatta perché vuoi parlare sempre giustamente solo tu scusate chi sta parlando di più io o cottafavi cottafavi ecco appunto è il panino imburrato allora come la Balivo non è solo una brava scrittrice ma è anche una fine acuta antropologa un giorno penso di essere più secondo che il primo mi ha detto una cosa che mi ha colpito molto e mi ha detto guarda che ciò di cui mi vergognavo io da bambina e da ragazza a Napoli o nella provincia di Napoli adesso di Caserta dove sei cresciuta adesso è glamour e figo e a Milano e che cosa vuole dire questo ce lo spiego ma vuol dire che tutte quelle cose fatte in casa dove da ragazzina è un po' da sfigata avere la mamma che ha il tempo di farti un dolce oppure che con amore ti fa un dolce oppure tuo padre che magari va nella sua campagna a raccoglierti le pesche e fare un succo di frutta per te perché vuole darti il meglio vuole darti quella cosa che oggi si dice bio tutte quelle cose io volevo il succo di frutta zueg io volevo la girella volevo la nastrina non volevo mia mamma che mi faceva la crostata al massimo la crostatina del mulino bianco quindi tutte quelle cose che invece io non avevo e che magari le mie amiche più ricche avevano ma non è perché mia madre non potesse comprare la nastrina o la crostatina di mulino bianco ma perché mia mamma mi voleva dare il meglio quindi mia mamma voleva mettersi lei a fare la crostata per me però mia mamma non aveva la possibilità di comprarmi la merendina e quindi io vivevo questa cosa come non abbiamo la possibilità di comprare la merendina la mia amica ricca si senza capire invece che c'era un atto d'amore da parte di mia mamma nei miei confronti e delle mie sorelle mio padre quando io quest'anno gli ho detto papà ma quei succhi di frutta che tu facevi ma perché non li rifai per i nipotini mio padre mi ha detto ma non li farò ma è più dico perché perché non li bevevate perché venivano le amiche e voi non volete metterli lì sulla tavola perché quei succhi di frutta me li avete proprio massacrati io ho tre sorelle quindi per questo parlo al plurale quindi tutte quelle cose di cui capito uno si vergognava oppure che so tua mamma che ti fa la coperta adesso quando sono nate i miei figli ma io ho sperato che qualcuno mi facesse la coperta che mi con i ferri o che qualcuno mi facesse proprio la cifra così come avevo io a casa queste cose che so la coperta oppure poteva essere l'asciugamanno ricamato quindi tutte quelle cose di cui uno si vergognava invece adesso salendo al nord andando a Milano ho visto che erano glamour sono bio anzi glamour e bio queste sono le due parole chiave che ci sono a Milano ma mentre tu subito dopo che tu mi hai svelato questa cosa io mi sono reso conto che a Segrata la Mondadori dalle borse di tantissime mie colleghe spuntavano i ferri della maglia che sono tornati di gran moda grazie a Russell Crowe però che ha detto che lo faceva per rilassarsi durante il suo film qualcuno mi ha detto che c'è anche un master per sciure milanesi per imparare a usare la macchina da cucina ma tu ci scherzi la macchina questo secondo me è anche un po' colpa di detto fatto ti devo dire che avevo io avevo scelto questa ragazza Emanuela di queste parti tra l'altro sì bolognese vabbè comunque bellissima alta un metro ottanto uno stacco di coscia da fare in vidia a Belen perché è più bassa e lei che stava lì con la macchina da cucire a 26 anni insegnante di Zumba quindi fisico statuario e che stava lì in trasmissione con la macchina da cucire a fare delle cose molto belle secondo me quel momento tutti questi tutorial che insomma ho avuto la fortuna di portare in un primo momento in tv hanno un po' sdoganato le cose di un'economia domestica data soltanto alla non all'asciura ma alla donna di casa che sta a casa perché non può fare altro ecco dietro questa cosa si nasconde anche un'altra delle architetture narrative del romanzo che è una specie di viaggio in Italia di Lara perché la sua protagonista appunto parte da Napoli e attraverso Roma arriva a Milano quindi insomma nelle tre più importanti sì Napoli Milano città italiane è un vero viaggio oltre che nel tempo nello spazio lo articoli un po' questo allora Roma partiamo da Napoli è la città della tradizione perché è la casa di questa protagonista Roma invece è la città della finzione dove tutto può sembrare apparentemente molto bello ma in realtà poi è proprio la città del cinema quindi fingono dalla mattina alla sera e poi vai al nord vai a Milano una città che invece molto fredda l'apparenza molto fredda ma se si apre ti fa vedere dei posti inediti bellissimi posti dove tra l'altro Lara se ne innamora subito fa il percorso per c'è che a Milano che tra l'altro se vi capita di andare fatelo perché è bellissimo dove c'è una cena al buio oppure ancora quando va al santuario della Madonna oppure ancora quando non posso raccontarvi i luoghi di Milano perché sono proprio gli ultimi luoghi di quando Lara poi ha la svolta in amore ecco perché mi freno un attimo altrimenti veramente vi dico il finale non mi piace però Milano è quella città fredda che in realtà è quella città che ti dà tutto se vuoi perché è un po' come quando ero piccola e sognavo New York senza parlare inglese invece Lara parla bene inglese addirittura insegna inglese capisci come ho voluto la parte fiction è la parte veramente fiction però un po' come quando ero piccola e pensavo New York diciamo ah perché in America tutto è possibile ecco a Milano tutto è possibile quindi alla fine sono queste tre città ovviamente vince Napoli per Lara perché è la città della tradizione ma sa benissimo che senza però quella Milano lei tante cose non le avrebbe potuto potute realizzare e poi ci sono i viaggi che le fa in America cioè Lara a un certo punto sta con questo Luca e d'amore d'accordo vivono insieme e però lei dice una bugia una bugia bianca un po' pesante per fortuna nella realtà non era proprio così e dice guarda io la sorella di Michela sta molto male deve andare in America io non posso non accompagnarla quindi questo viaggio che abbiamo pensato di fare con i nostri amici con gli amici di Luca Pariolini noiosissimi mi spiace Fiordi cioè questa capito arriva da Napoli vogliono portarle in estate fate a vedere ma che cosa noiosa dice mi dispiace quindi dobbiamo io devo accompagnare Michela in America quindi lo molla di punto in bianco e se ne va in America poi uno si chiede come mai questo ti tradisce con la sua migliore amica è un motivo ci sarà non di Lara è sua non di Lara è sua sarebbe veramente stato il minimo il tuo fidanzato che se ne va con la tua migliore amica e quindi a un certo punto c'è anche questo aspetto che Lara appena può vuole conoscere il mondo e quindi è pure un po' spietato dice sai ma che c'è io ti lascio qui perché un altro viaggio con la mia amica che è fidanzata con quest'attore super premio Oscar tutto vero questo tutto vero un attore che deve girare un film ad Hollywood Lara dice io che arrivo dalla provincia di Napoli mai avrei pensato di andare ad Hollywood e stare su un set cinematografico con un premio Oscar perché è l'amante della mia più cara amica e quindi Lara mette insomma il piacere davanti ad un fidanzato un po' noioso quindi il libro è molto interessante anche perché svela con molto acume e anche entrando nel dettaglio appunto le differenze di questo percorso nel tempo attraverso queste città chiave per cui c'è una specie di Napoli post-ferrantiana c'è una molto molto ben descritta c'è questa Roma tutta tutta finta e tutta rifatta insomma molto rifatta per dire le facce che incontriamo per strada a Roma e poi c'è la riva a Napoli invece nella tua vita ora tu che tu avevi fatto questo percorso adesso sei tornata alla tappa intermedia per fare il tuo nuovo programma e sei tornata da Milano a Roma e che effetto ti fa Roma dopo Milano penso che diventerò un attivista politica questo è il messaggio pre-elettorale di Caterina c'è qualche domanda prima che scenda in politica e poi non avrete possibilità di farmi domande stai scherzo c'è qualcuno che mi vuole fare qualche domanda? sì siccome non no nessuno è vero a me come siete educati su dai una domanda la balivo una tu 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 cosa lì in fondo vengo vengo da te aspetta proprio lì in fondo può essere uno qui davanti no ciao ciao aspetta chi ha detto io domanda io io sto venendo signora aspetta signora un attimo dovresti scrivere un libro sugli uomini come hai scritto sulle donne prova a fare un libro sulle lavatrici per gli uomini usa lo stesso lo stesso parametro le stesse cose prova prova questa è la seconda parte quindi cottafavi prendi nota vedi che lo vogliono già un altro libro hai trovato una editor molto più brava di me tra otto anni tranquilli quindi compratelo lo potete leggere per otto anni e il prossimo acquisto tra otto dimmi chi è che vuole fare la domanda tu tu mi hai fatto questa foto orribile ti becchi la domanda per me certo no allora devo soltanto chiederti niente semplicemente dirti che ero sono stata un acquirente molto scettica del tuo libro ecco molto scettica io vorrei analizzare perché no davvero ma senza non mi offendo anche perché mi dicono di peggio sicuramente no perché non sapevo cosa aspettarmi da un personaggio famoso che vedevo comunque soltanto in televisione perché mi vede in televisione però sono stata una lettrice appassionata sei veramente brava mi è piaciuto tantissimo io la chiuderei qui qua grazie però effettivamente questa è la giusta recensione al tuo libro Caterina dai pregiudizi bisogna passare ai giudizi ma io non penso che siano pregiudizi io però capisco che uno dice ma questa fa televisione è sposata c'hai figli vai sui social oppure il libro ma perché hai ragione però il perché perché volevo condividere condividere le mie esperienze con le altre donne e anche uomini perché secondo me gli uomini se lo leggono qualcosa capiscono perché Lara perché Lara ad esempio è una di quelle che il numero di telefono non lo dà giusto perché è lei che vuole decidere quando chiamare quello che le piace perché pure questa cosa che gli uomini devono decidere quando te vengono a prendere dove te devono portare quando andare a letto e no scegliamo pure un po' noi chi era? cosa dice qui l'uomo? che ha detto? sull'andare a letto sei un po' sbiancato dimmi non decidere ero un po' perplesso cioè perché tua moglie decide infatti è tua moglie ma tu con le tue fidanzate chi decideva? eh sì sempre le fidanzate c'è anche la categoria delle donne che decidono ma infatti io penso che siano soprattutto quelle oggi però nessuno le racconta nei libri bisogna farlo le letto? no non ho ancora quando lo leggerai? tra entro la settimana e se c'è quell'email manderò l'email c'è in fondo info chiocciolacaterinabaleo.com come ti chiami? Sergio Sergio? ricorderò Sergio se non mi arriva ti vengo a trovare a casa l'ultima domanda sì dobbiamo stringere ho capito un attimo Antonio mi vuoi fare da valletto chi era la domanda? la signora prego allora ti domando quel panino al burro chi senti quando lo senti quando mangi quel panino al burro? chi senti? ah quel panino al burro io chi sento? sento la mia mamma sento 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 la mia famiglia sento la mia famiglia certo lei di dov'è? io sono italo-venezulana però la mia terra è Salerno siamo vicino ah vedi siamo vicino ma mi piace questo fatto che a Modena c'è qualcuno di Modena? ah no signora complimenti io sono sposata da 43 anni eh ma complimenti a lei signora un uomo che giudico meraviglioso l'applauso non siate rosicone una buona lavatrice quindi lui è una buona è lui il marito è una buonissima lavatrice ed è commosso ma faccio piangere qualcuno pure qui cioè è pazzesco complimenti perché lei sarà sicuramente un uomo molto intelligente molto ma dove vi siete conosciuti? siamo conosciuti in un paesino della provincia e siamo ancora qui questo paesino come si chiama? Bastiglia Bastiglia ma senta perché lui andava bene? perché è meraviglioso ma in difetto ce l'avrà stuomo signora? tanto abbiamo litigato tantissimo però per cosa avete litigato? no assolutamente controllo il telefonino? no mi fido ah ma lui non ha la password lui è un uomo meraviglioso è come il mio ce l'aveva la password poi ha detto ma che la metta a fa' sta password? me la cambia allora mi dicono di stringere non so perché perché devi fare il firmacopio e poi hai il treno perché devi tornare a Roma perché come forse ricordi domani ricomincia la tua settimana televisiva io ricomincio io ricomincio con viene da me ma soprattutto perché ho una bimba di 16 mesi e un bambino di 6 che dicono mamma ci sei? perché possiate godervi Caterina anche nel firmacopio e nei selfie qui vi salutiamo vi ringraziamo la salutiamo grazie grazie veramente è stato bellissimo e non pensavo di avere la sala piena quindi grazie grazie a tutti ci vediamo domani alle 14 per chi volesse la firma del libro ci vediamo fuori ho visto che c'è un bancariello io mi metto lì e firmo poi ho un treno alle 19 e 15 da Bologna quindi alle 6 e mezza vado via e vabbè ma ci sono 45 minuti e Caterina Balivo dimostra non abbiamo fatto la foto con loro no facciamo una foto con voi come facciamo adesso? seduti seduti in piedi no è impossibile adesso dai facciamo così alziamo tutti le mani ecco vai uuuu 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 grazie a tutti